Buongiorno ai nostri telespettatori, benvenuti in studio ai nostri ospiti invece, ospiti che sono stati scelti ieri all'interno della manifestazione Le Proloco in Festa. Infatti le nostre telecamere appunto nella giornata sia di sabato che di domenica hanno raccolto immagini e interviste che poi andranno in onda nella puntata e festa nel fine settimana su Quarta Rete e su Show TV. Questi due signori sono rappresentanti di Proloco. In realtà le due giornate sono state ricche di eventi, c'erano 73 Proloco del Torinese, il titolo della manifestazione esattamente era Paesi in Città, Le Proloco in Festa, quinta edizione con una grande novità, la Location. Negli anni precedenti, nei quattro appuntamenti precedenti, la manifestazione si era svolta in Piazza Vittorio. Ieri invece e sabato si è svolta ai Giardini Reali, quindi il cuore verde della città di Torino. I signori qui in studio con noi sono Francesco Bevione, che è della Proloco di Alpette, presidente, vero? e poi Renzo Borca, che invece è il vicepresidente della Proloco di San Sebastiano D'Apo. Il perché della scelta? Il perché della scelta è che queste due Proloco hanno ottenuto dei premi. Allora, partiamo da San Sebastiano D'Apo. San Sebastiano D'Apo è stata premiata come miglior promoter. Alpette, invece, insieme a Scalenghi, al Proloco di Scalenghi, al Proloco di Monastero di Lanzo, è stata menzionata, cioè noi abbiamo assistito alla premiazione. Le autorità hanno sottolineato il fatto che dispiaceva segnare un solo premio, per cui hanno ritenuto necessario menzionare altri Proloco che effettivamente si sono in qualche modo fatte notare. hanno avuto delle belle vetrine. San Sebastiano D'Apo proponeva un piatto, un piatto caratteristico, perché 73 Proloco, l'abbiamo detto, ben 42 nell'area enogastronomica. E qui siamo proprio nell'area enogastronomica. San Sebastiano D'Apo con una specialità. Allora, di che cosa si trattava? Noi presentavamo il piatto della tradizione, che sono gli agnolotti con ripieno a base di mele. Mele un po' particolari, perché ricordo il Pummatang. Sì, mele particolari, Pummatang, che è una varietà tipica, diciamo, della nostra zona. È una mela che non si trova in commercio, perché in realtà è una mela poco commerciale, perché ha una brutta caratteristica, volendo, che però la rende particolare, ossida subito al minimo contatto e al taglio. Ah, quindi sono di quelle mele che come gli incidi contro il coltello dentro sono già scure. Esatto, diventano subito scure. Hanno questo alto contenuto, probabilmente di ferro, che fa sì che la mela ossidi, però la rende molto asciutta e ideale per essere consumata soprattutto cotta. Cruda, sinceramente, non la consiglio agli telespettatori. È un po' come la mela cotonia. Ha qualche caratteristica della mela cotonia, diciamo. Ecco, questa è una ricetta che appartiene alle vostre tradizioni, perché ieri e sabato noi, girando per gli stand, abbiamo appunto scoperto che proloco vuol dire molto, molto di più di quello che noi non immaginiamo. Vuol dire tradizioni, vuol dire cultura, vuol dire storia. E direi che racchiusa in questa mela c'è tanta storia, almeno la storia del vostro paese. Sì, la storia soprattutto dei tempi passati, risaliamo anche forse alla fine dell'Ottocento, in cui i contadini, San Sebastiano era un paese tipicamente a vocazione contadina, le massaie dovevano inventarsi qualcosina per dar da mangiare alla famiglia. E la tradizione racconta che un signore ha avuto la fortuna di trovare un tartufo, ben contento, è andato al mercato a rivenderlo e all'epoca aveva ottenuto uno scudo d'argento che, fatte le due vite proporzioni, doveva essere parecchio, e ha detto alla moglie che la domenica avrebbe voluto mangiare gli agnolotti, che era un piatto che si potevano concedere solamente, diciamo, i ricchi, i signorotti del paese, e non sempre. Però la signora, da buona massaia, aveva fatto presente che forse era meglio comprare le mantelline e le scarpe per i bambini che dovevano andare a scuola, ma Giuseppe, nome di fantasia, diciamo così, ha detto no, io voglio gli agnolotti. E la signora ha lasciato cadere il discorso ed è andata avanti per la sua strada. Alla domenica ha scolato questi, tirato su dal pentolone questi agnolotti e lei in realtà aveva speso i soldi per comprare le mantelline e le scarpe per i bambini. Conditi con quello che aveva in casa, il buon Giuseppe mangia, assaggia questi agnolotti e si blocca. E lì la massaia scoppia in lacrime e gli dice, scusami Giuseppe, non ho resistito, ho comprato le mantelline e gli agnolotti li ho fatti con le mele che ho trovato su in cantina, due pezzi di salsiccia che ho avanzato e ho grattato una crosta di formaggio. Al che Giuseppe dice, sì, brava, bravissima, sono contento, questi sono i veri agnolotti dei poveri. Infatti gli ingredienti di questi nostri agnolotti che presentiamo hanno degli ingredienti abbastanza pochi.